Ciao VetComics, il viaggio nel tempo è qualcosa di molto inflazionato, di molto noto, è uno dei pilastri fondamentali della narrativa di fantascienza, così come della cinematografia, è stato raccontato in svariate versioni, ognuna più particolare dell'altra ed è diventato un po' il tema preferito dei tanti amanti della fantascienza, come anche degli autori. Ci sono state tantissime versioni del viaggio del tempo, ognuna però ha prodotto un risultato che può essere definito come l'effetto farfalla, se io torno indietro nel tempo e magari c'è la puntata dei Simpsons in questo senso che è un magnifico esempio, anche solo se schiaccio un insetto, poi questa uccisione che non era prevista nel continuum originale spazio-temporale potrebbe provocare nel futuro degli effetti cataclismatici, degli effetti che vadano a cambiare sensibilmente la realtà di partenza dalla quale io provengo, generando di fatto una linea temporale alternativa. Questo è il tema anche di una delle opere più recenti di Mark Miller, torniamo a parlare di Mark Miller, sapete bene quanto io sia un amante del modo di scrivere i fumetti di Mark Miller, mi piace moltissimo, mi piace il suo essere così scansonato, il suo essere così pop, il suo essere anche abbastanza paracudo talvolta, non dispiace, non dispiace, le sue storie sono veramente puro intrattenimento e soprattutto nel tempo si sono evolute sensibilmente, hanno raccontato sempre cose nuove, se in partenza Miller era molto affezionato al canone supereroico del fumetto americano, si è saputo diversificare nell'arco degli anni, arrivando per esempio a Chrono Notes, i crononauti, che sono i protagonisti di questa sua opera, della quale Panini ha pubblicato il primo volume, ha una storia autoconclusiva però c'è un numero uno, quindi ci fa già intuire che questa storia proseguirà, sarà diciamo strutturata a stagioni, Miller si è riempito di impegni nel tempo e sta lavorando contemporaneamente a molti progetti, quindi non sappiamo benissimo quando arriverà, se arriverà un sequel di questa prima stagione di Chrono Notes, anche perché lo stesso disegnatore Sean Gordon Murphy è attualmente impegnato su All Star Batman, leggeremo presto il suo arco narrativo della nuova serie di Batman scritta da Scott Snyder e ha anche anticipato di star lavorando un nuovissimo progetto come autore completo sulla falsariga di quanto fatto già per Punk Rock Jesus e addirittura ha detto che la DC Comics vuole fare di lui il nuovo Frank Miller, gliel'auguriamo ecco, non sarà di certo facile, non gli manca ambizione diciamo. Chrono Notes, Chrono Notes di che cosa parla? Parla di due scienziati, il dottor Quinn e il dottor Rayleigh che diciamo si trovano a viaggiare nel tempo, perché il primo di questi ha saputo sviluppare una tecnologia che è in grado di far viaggiare oggetti prima e essere gli eventi poi indietro nel tempo e grazie alla collaborazione col dottor Rayleigh, peraltro Biondo, chi vi ricorda, a me ricorda un certo Ben Rayleigh sicuramente, quindi estere ex, citazioni nerd, buttate qui lì, ci sono sempre a Miller. Ecco, grazie a questo secondo dottore, a questo secondo scienziato si ha la scoperta, l'invenzione di delle tute, ha delle tute molto particolari, molto colorate, sono arancioni, che sono in grado appunto di possiedere una batteria che dura addirittura 100 anni e sono in grado di spostare coloro che le indossano così come gli oggetti limitrofi ai viaggiatori indietro nel tempo, facendogli fare dei veri e propri salti. Che succede però? Ovviamente c'è la programmazione del primo viaggio temporale, i media in quest'opera hanno un ruolo abbastanza importante, un evento storico che viene raccontato un po' da tutti e viene atteso dall'intera popolazione mondiale. In questo primo viaggio però qualcosina va storta, non si riesce, il viaggio non va come previsto e il primo viaggiatore temporale, il dottor Quinn, giunge in un altro momento del tempo rispetto a quello che era stato preventivato. In suo soccorso arriva il dottor Rayleigh che vuole aiutarlo, però nel momento in cui arriva scopre che in realtà il suo collega si è adattato benissimo alla sua nuova situazione e addirittura l'ha cambiata a suo favore prendendosi tutto ciò che poteva prendere, immaginato un uomo del futuro che giunge nel passato con una tecnologia avanzatissima, cosa potrebbe fare giungendo appunto nelle epoche precedenti alla sua. Ecco, quindi il dottor Quinn dimostra di trovarsi benissimo nel passato, convince il suo collega a fare lo stesso e i due cominciano a gozzovigliare, a divertirsi, a spassarsela alla grandissima nel passato, prendendosi forse dalla vita ciò che la vita prima di allora gli aveva tolto in sostanza. Quindi c'è questa ignoranza, questa voglia di riscatto, questo egoismo, questo ego sconsiderato dei protagonisti che rischiano di alterare in maniera catastrofica il continuo spazio temporale. Ovviamente ci sarà chi cercherà di impedire che loro facciano danni, ci saranno dei risvolti, ci sarà una conclusione, è un arco narrativo molto interessante, ripeto con un preciso inizio e un altrettanto precisa fine, è molto divertente, si legge tutto in un fiato veramente, il volume va via in una mezz'ora, tre quarti d'ora scarsi, è piacevole, è piacevole come sempre nel caso di Mark Miller, lo ribadisco ulteriormente perché questo autore ha molti hater, ha molti critici che vanno a cercare di eliminare, di distruggere ciò che fa in maniera piuttosto vana, l'atto che ogni cosa che fa vende tantissimo e diventa un film, anche Crononauts sarà un film. Che altro dire? È molto interessante vedere come Miller riesce a fondere la fantascienza con altri generi narrativi, come vada a contaminare la sua storia con tantissimi elementi, citazioni, estere ex e quant'altro, puro canone nerd. Ha un tono molto scansonato quest'opera, è meno cinica, è meno cinica rispetto a ciò che Miller ci ha abituato, c'è sempre uno humor molto british, ma molto, ripeto, scansonato, è un'opera davvero ignorante in senso buono, un'opera rumorosa, fragorosa, che distrae, che diverte in tutta la sua durata. Ai disegni appunto, come già detto, c'è Sean Gordon Murphy, un artista davvero interessante, dotato di un tratto aggressivo, dinamico, originalissimo, che va a fondere peraltro più stili, Murphy riesce a fondere un fumetto orientale con quello americano, crea delle anatomie molto particolari, dei tratti somatici molto spigolosi, questa cosa conferisce veramente grande, grande dinamicità alla storia, che è veramente al fumicotone, in più Murphy si è sempre distinto, ha sempre dichiarato di trovarsi molto bene a inventarsi, ingegnarsi per costruire delle macchine futuristiche, ibride, mezzi di trasporto, tecnologia, armi, c'è un po' tutto in questo, contestualmente a una ricreazione del contesto passato, dal Medioevo, alla New York degli anni 30, alla Spagna del 1500 e così via, diciamo che quindi c'è questa commistura di epoche, questa fusione chiassosa, tutt'altro che dedicata e quindi diventa qualcosa di interessante sicuramente. Che altro dire, è perfetta, è perfetta quest'opera per essere adattata a film, anzi secondo me è stata proprio scritta in funzione di un adattamento futuro cinematografico, che mi pare fu annunciato ancora prima che il primo numero di Crononauts dell'edizione originale americana Image Comics uscisse negli Stati Uniti, quindi ha il ritmo veramente cinematografico, storytelling sequenziale, molto appunto dinamico, i film narrativi si intervallano fra loro, si passa da un protagonista a un altro, ci sono primi piani, campi larghi e quindi è veramente strutturata in modo tale che chiunque la legga possa trasporla facilmente in una sceneggiatura cinematografica. Il volume è questo, fa parte della collezione Miller World, della Family Comics, cartonato, molto esile, prezzo 16 euro di copertina, l'uscita è del 29 settembre, quindi abbastanza recente, è una lettura che si fa voler bene, senza ombra di dubbio. Con questo vi saluto, ciao MedComics!